Il sogno di Fratel Biagio scomparso lo scorso gennaio è più vicino. Ci sono più fondi per il poliambulatorio solidale che sognava per i suoi poveri. Più di 40.000 euro sono stati raccolti per la prova generale della Carmen ieri sera al Teatro Massimo di Palermo. Nei giorni scorsi il soprintendente Marco Betta aveva deciso di aprire al pubblico le prove proprio per sostenere la missione Speranza e Carità e in particolare la realizzazione di un poliambulatorio sociale all'interno della cittadella del povero in via De Collati. Lo spettacolo che ha come protagonista la bella gitana icona di emancipazione e libertà andrà in scena da domani a domenica 18 giugno, ma l'antipasto è stato comunque di livello superlativo e la finalità benefica ha reso tutto ancora più interessante. Biagio Conte, ha spiegato il soprintendente Betta, ha lasciato tante impronte, ha cambiato la città, le nostre anime e quelle delle persone che ha incontrato. La sua presenza angelica e spirituale continua a essere un segnale importante di cambiamento.